Sono contento con il mio gol perché in questo momento io gioco bene ma solo non avevo segnato ancora. Anche perché ho fatto cinque gol, Bojan, Pazzini, Montu, Serawe e io, sono una buona partita per squadra, ho giocato bene, so adesso continuare così. Anche contro Malaga, domenica contro Fiorentina è molto importante perché dobbiamo vincere e quando vincere la partita è buona per la squadra. In questo momento io gioco bene, ho fatto tutto per aiutare la squadra, sono in forma, voglio giocare sempre, ho segnato il mio primo gol al campionato, sono contento. Quando gioca 3-4-3 manca un trequattista, io penso che vogliamo giocare, è bene, anche ieri Bojan, ho giocato bene, è meglio per la squadra, sì mi piace 4-2-3-1. Contro Malaga dobbiamo vincere perché adesso Malaga ha 9 punti e noi 4 e anche Senna 3, sì in Champions è una partita molto importante per noi e dobbiamo vincere. Milan gioca un po' meglio, so anche mister un po' tranquillo.